Questo protocollo per noi era molto importante, l'abbiamo fortemente chiesto al prefetto che ha accolto immediatamente la nostra richiesta perché è un protocollo che c'è già anche in tante altre città della nostra regione ed è molto importante perché aiuta a tenere la fila in maniera concreta di quello che può essere un intervento in questa tematica nei vari soggetti che ovviamente ne sono coinvolti a vario titolo e con le varie esperienze. Quindi è davvero molto importante per noi essere qua oggi e devo dire che da quando ne abbiamo parlato, quando è stato realizzato è stato fatto veramente molto velocemente ma proprio perché c'è stato immediatamente da parte del prefetto e delle altre istituzioni ovviamente la consapevolezza che fosse importante farlo, quindi siamo arrivati anche in tempi molto veloci a oggi. Il territorio piacentino, anche in febbraio, sono state tante le donne che si sono coinvolte? Sì, a noi è balzato all'occhio questo dato perché intorno al 20-21 di febbraio erano 20 donne nuove che erano, avevano fatto accesso al centro di violenza, quindi sì.